Anche Arezzo si mobilita a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto, il sisma di magnetudo 6.0 e profondo 4,2 chilometri con epicentro nei monti Reatini ad Accumuli in provincia di Rieti. Molti paesi interessati, decine feriti, centinaia le famiglie colpite dall'evento sismico che nel cuore della notte ha fatto tremare l'intero centro Italia. I primi a partire poco dopo la prima scosta sono stati i vigili del fuoco di Arezzo con nove unità insieme al personale SAF e al nucleo elicotteristi. Altri vigili del fuoco sono invece pronti a partire nei prossimi giorni per dare il cambio ai colleghi al lavoro per la messa in sicurezza ed il soccorso. Disponibilità e soprattutto sostegno anche da parte del comune di Arezzo. È partito un nostro tecnico con un mezzo per far parte del contingente complessivamente messo a disposizione della regione toscana, quindi Arezzo dà il suo contributo a questi territori martoriati. Noi siamo stati fortunati perché l'evento è stato fortissimo, quindi magnetudo 6, ma relativamente superficiale, quindi con effetti non estesi dal punto di vista territoriale. Ad Arezzo è arrivata comunque l'onda, molte persone sono svegliate e hanno avuto paura oggettivamente. Nessun danno né alle persone né alle cose, quindi diciamo che ci è andata bene. Non altrettanto purtroppo a Amatrice e a Norcia, quindi siamo vicini ai colleghi sindaci e alla popolazione che ha subito questo fortissimo evento tellurico.